Fidi Toscana verso la privatizzazione, l'annuncio dell'assessore all'economia Leonardo Marras, il dibattito in consiglio. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. La regione diminuirà la partecipazione azionaria in Fidi Toscana, la finanziaria che facilita l'accesso al credito alle imprese del territorio. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'economia Leonardo Marras nel corso della seduta di martedì scorso a Palazzo del Pegaso. In sostanza nella sua comunicazione l'assessore ha detto che si va verso una privatizzazione di Fidi e un riassetto generale degli organismi regionali a sostegno dell'economia. In particolare si pensa alla trasformazione della società in house sviluppo Toscana in agenzia per lo sviluppo. Ma sentiamo le interviste. Intanto occorre dire che Fidi Toscana è nato nel 1975 e anche nel rapporto che ha stilato Prometeia ci dice che ha svolto un ruolo positivo per l'economia toscana, per la crescita delle piccole e medie imprese, per lo sviluppo complessivamente. Oggi però è cambiato il quadro normativo, soprattutto a seguito della pandemia si sono rafforzati gli strumenti nazionali per quanto riguarda il sostegno al credito e l'innovazione delle imprese. Con la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 112 sono praticamente venute meno le garanzie pubbliche di carattere locale. E allora occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere le imprese, per accompagnarle, per avere un effetto positivo nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra economia. Ecco perché la proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house. Ecco perché non andiamo a trasformare Fidi Toscana perché sviluppo Toscana è già in house, esiste già e con l'apporto di una parte del know-how di Fidi Toscana e di Sici può rappresentare questa agenzia integrata che dia impulso e sostegno alle nostre imprese. Ovviamente rimane l'altro aspetto, quale mission e cosa dovrà fare Fidi Toscana? Perché noi non intendiamo comunque abbandonare l'idea che ci possa essere comunque ancora un futuro ed un ruolo. Vorremmo che questo futuro sia disegnato attraverso la ricerca di uno o più partner nell'ambito del privato che possono indicare e aiutare la Regione a definirlo. Allora però noi chiediamo delle garanzie per andare avanti. Innanzitutto chiediamo che venga tutelato il valore complessivo di Fidi Toscana, chiediamo che venga tutelata l'occupazione perché in Fidi Toscana ci sono delle professionalità molto importanti che hanno svolto un ruolo molto positivo fino ad oggi e che potranno e dovranno svolgerlo anche in futuro. Per cui prima di procedere eventualmente all'applicazione della legge Madia che potrebbe far confluire una parte di quel personale su sviluppo toscana, chiediamo di poter conoscere qual è l'esito dell'avviso pubblico e cioè di sapere se ci sono dei partner interessati che siano autorevoli, che siano di valenza almeno nazionale. Se questo non ci fosse ovviamente dobbiamo fare una riflessione di carattere diverso. Per cui dando l'ok alla proposta che ci viene fatta in una risoluzione concordata tra noi e Italia Viva, quindi la maggioranza, chiediamo anche all'assessore che venga nuovamente in consiglio a riferirci a seguito dell'esito della manifestazione di interesse in maniera tale che potremo in quel caso a ragion veduta fare le nostre riflessioni e dare gli indirizzi finali per poter procedere a quello che sarà il futuro della strumentazione di cui la Toscana si dota per il sostegno alle imprese. Fondamentalmente non ci convincono i tempi perché dal 2018 quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fili Toscana abbiamo perso tempo allora, abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Gianni perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fili Toscana una società 100% pubblica e quindi fino ad oggi da un anno a questa parte abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la Giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fili. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo, i bilanci di Fili non detto da me ma detto dalla stessa società in futuro saranno bilanci rossi, rossi, rossi ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che se tutto va bene avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fili Toscana che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie e su queste la Giunta non ha chiaro quello che succederà. Oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in Fili Toscana per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Più ci sono tante altre zone d'ombra, oggi ci viene detto dalla Giunta che Fili Toscana vale 44 milioni di euro ma lo studio che ha elaborato il piano parla di un valore attuale di 74 milioni di euro, quindi è già in preventivo una perdita di 30 milioni nei prossimi anni. La regione stessa un anno fa acquistava quote, oggi si va verso la dismissione, un anno fa acquistava quote per portare Fili in house spendendo 3 milioni di euro, cioè quindi tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico che è stato sperperato e che nei prossimi due anni verrà bruciato. Ma ci sono forti incertezze su questa strategia, anzitutto abbiamo perso un anno, un anno prezioso in cui Fili Toscana aveva portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare a una prospettiva in house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su sviluppo Toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della Giunta Gianni, il primo vero fallimento politico. Ma cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia, il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza, solo creando ricchezza la si può distribuire, è fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, avvidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di fili toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il fondo di garanzie centrali, con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorsi fili del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiato, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge, la politica non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente. Quindi la nostra convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno soprattutto del settore commerciale, artigianale, piccole e medie imprese che più di altri stanno faticando, mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare al loro fianco. Mi piace ricordare che neppure due anni fa in campagna elettorale da una parte il governatore attuale Gianni diceva che avrebbe trasformato Fidi Toscani in house, dall'altra parte Susanna Ceccardi diffidava da comprare nuove quote di Fidi Toscani da parte della regione e quindi si trasforma in house. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di Fidi Toscana da parte della regione Toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in sviluppo Toscana così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fidi Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. La valutazione è veramente sorprendente. Non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la regione toscana dichiara non più strategica e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate appunto alle garanzie di Fidi Toscana. La soluzione fondamentale sarebbe quella prima di tutto di fare un piano regionale di sviluppo, avere un'idea chiara e precisa di cosa si vuole fare in questa regione e come ho ribadito anche in aula la cosa principale sarebbe quella finalmente di creare una mobilità efficiente che metta in contatto la costa con l'interno. è inutile continuare a discutere di grandi aeroporti della Darsena Europa se poi non esistono i collegamenti per mettere in contatto la costa con l'interno e soprattutto con il nord Europa. Tanto sono due giorni molto importanti non per il Consiglio regionale, sono due giorni importanti per l'economia del nostro territorio, per le nostre imprese, per il sistema bancario e per il sistema del credito della regione toscana. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che occorreva in regione toscana una finanziaria regionale, una finanziaria che facesse non solo i prestiti o che erogasse garanzie ma che sostenesse il territorio. Abbiamo negli anni criticato la gestione di Fidi Toscana, avevamo ragione, i conti lo dimostrano. Guardate, in dieci anni Fidi Toscana perde oltre 50 milioni di euro e brucia oltre 109 milioni di capitalizzazione. Di chi è la responsabilità di questa sciagurata gestione? Certamente è della politica, della politica che ha scelto, della politica che ha detto quali erano le imprese e che andavano aiutate, della politica che non ha mai detto una voce critica nei confronti di quella gestione. Ecco perché oggi sosteniamo una visione diversa. Intanto dobbiamo dire che non ci sono state delle risposte che avevamo chiesto in Consiglio regionale. Non ci basta un piccolo documento di quattro pagine di Prometea quando il documento complessivo è di oltre 250 pagine. Lo riteniamo un atto assolutamente sconsiderato ed anche offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali. La documentazione di Prometea doveva essere data ai consiglieri regionali in tempo utile per studiarla e per farsi un giudizio, perché troppe volte la politica è condizionata dai pregiudizi. I consiglieri regionali, come tutti i politici, dovrebbero invece avere soltanto giudizie. I giudizi consapevoli li hai se hai gli strumenti per formarti quel giudizio. Prometea era un elemento essenziale quella relazione per capire e per formarsi un giudizio. Noi sosteniamo alcune cose che abbiamo portato in Consiglio regionale. Il primo, abbiamo bisogno di una finanziaria regionale, abbiamo bisogno di una finanziaria che abbia dentro il 106 per sostenere e per fare garanzie alle imprese. Abbiamo bisogno di una gestione fatta di competenza. Basta i prestiti e gli aiuti agli amici degli amici. Si aiutano i progetti industriali, si aiutano le imprese del territorio, prevalentemente quelle che stanno in regione toscana per quanto ci riguarda, e si aiutano le imprese, non quelle che sono destinate a chiudere, ma quelle che hanno una prospettiva, che hanno i livelli occupazionali. Troppe volte Fidi Toscana ha aiutato imprese che dopo pochi mesi hanno chiuso, depaperando così il patrimonio industriale della regione toscana e perdendo posti di lavoro. Il terzo elemento che chiediamo è che la scelta venga fatta in tempi celeri, in tempi veloci, perché il tempo è un elemento essenziale per il sistema produttivo di questo Paese, cioè entro tre mesi. E il quarto elemento, ultimo ma non da ultimo, è il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè la garanzia che quei 53 dipendenti di Fidi Toscana, che oggi sono delle professionalità acquisite per il nostro territorio, non debbano essere perse. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.